E per ricordarvi, bella a tutti ragazzi un'altra volta, che siete molto speciali per me, non vi dimenticherò mai, un bacio, e grazie appena creato il canale Però, per me, per me siete molto significativi, e non vedo l'ora di trovarvi in giro per le... Perciosa, c'è Chioggia, come italiano, e... Dio, voglia!